Buon pomeriggio a tutte e a tutti e grazie per essere qui con noi della redazione di Mondadori Education per presentarvi un'opera alla quale noi abbiamo lavorato con tanta passione nel corso degli ultimi anni. Mi presento, io sono Isabella Randone, sono la responsabile della redazione per la secondaria di secondo grado di Mondadori Education e oggi siamo qua per presentarvi un nuovo corso di fisica per i cinque anni del liceo scientifico, un corso che è nato dall'esperienza di insegnamento di un vostro collega. L'autore del corso Hubble di cui stiamo per parlarvi si chiama Andrea Brognara. Andrea è un fisico teorico, è un dottore di ricerca ma soprattutto Andrea è un docente super appassionato della sua disciplina, insegna matematica e fisica da vent'anni e attualmente lo sta facendo in un liceo scientifico di Bologna. Qui insieme a me ve li presento per raccontarvi Hubble con la voce della redazione ci sono Rita Occhipinti, anche lei con la stessa passione di Andrea Brognara ha seguito tutte le fasi di realizzazione di questo corso dalla gestazione proprio dalla sua progettazione fino al visto si stampi poche settimane fa. E c'è con noi anche Vincenzo Belluomo, vi presento anche Vincenzo. Vincenzo invece è il collega prezioso responsabile del nostro ufficio multimediale per la parte scientifica ed è colui che ci ha affiancato nella progettazione e ci ha permesso di realizzare, lo vedrete, lo ascolterete dalle sue parole, realizzare un prodotto che realmente intreccia proprio i contenuti cartacei con i contenuti digitali. Allora non rubo altro tempo, prima di passare la parola ai miei colleghi vi ricordo che potete porre le vostre domande in chat. Io sarò collegata tutto il tempo, le raccoglierò, alla fine avremo sicuramente un po' di tempo per rispondere. Quindi non mi resta a questo punto che cedere la parola a Rita, ci rivediamo fra un po'. Eccomi qui, allora benvenuti di nuovo, io sono un po' la progettista editoriale fisica che si è occupata di quest'opera già dall'abbiamo iniziato nel 2016, come diceva Isabella, finalmente abbiamo portato dallo stampatore questo progetto. Inizio subito presentandovi appunto l'opera, questo è il piano dell'opera, come vi diceva Isabella stiamo parlando di un corso che va dalla classe prima alla classe quinta, si chiama Hubble e vuole un po' questa parola essere evocativa del fatto che la fisica non è solo, è sicuramente modelli e calcoli e interpretazioni e osservazioni della realtà, ma non mi chiamarla con un telescopio, forse il telescopio più famoso del mondo, vuole un po' evocare il fatto che la fisica è anche bellezza, stupore. Qui vedete già la prima cosa particolare di quest'opera, c'è una classe quinta che ha un volume principale e un fascicolo, adesso ci arriviamo. Come prima premessa voglio dirvi subito che questa è un'opera che è nata da una lunga progettazione con quest'autore che è un vostro collega e è un corso di fisica che fa delle proposte un po' particolari rispetto a quello che c'è sul mercato, consentitemi il termine è un corso di fisica per alcuni versi anche coraggioso e nella lavorazione, nella progettazione ci siamo confrontati con tanti altri vostri colleghi che ci hanno aiutati nella progettazione, nella revisione dei contenuti, circa 70 sono i vostri colleghi che hanno partecipato alla progettazione e alla realizzazione di quest'opera. Facciamo così, io vi faccio una panoramica velocissima su quelli che secondo noi sono i punti di forza di quest'opera e poi li sfogliamo insieme. Gli indici sono uno dei punti di forza di quest'opera perché come vi dicevo ci sono alcuni argomenti che hanno una scansione un po' diversa dal solito ma molto ragionata e molto discussa con gli insegnanti. Una teoria che è corretta, rigorosa ma cerca di essere sempre molto semplice nell'esposizione, un eserciziario ricchissimo, materiali assolutamente unici per prepararsi all'esame di Stato e tante proposte se si vuole per fare una lezione un po' diversa dal solito. Iniziamo con gli indici. Gli indici vi mostro, qui vedete l'indice del primo bienio, ho evidenziato in verde quelli che sono gli elementi di particolarità rispetto a quello che magari siete soliti vedere sui vostri libri. Nell'indice del bienio c'è, ed è un unicum, un capitolo dedicato alla rappresentazione delle grandezze fisiche. Questa è una competenza che non si può dare per scontata dalle scuole medie, ce l'avete raccontato in tanti e quindi è necessario avere anche una certa quantità, una quantità ragionevole e utile di esercizi e quindi ne abbiamo fatto un capitolo dedicato. Un'altra particolarità è un capitolo dedicato ai vettori e non insieme alle forze. È un capitolo breve ma dedicato e questo è, riteniamo, importantissimo per comprendere, per riconoscere più avanti i vettori perché spesso gli studenti si convincono che gli unici vettori sono le forze e poi più avanti fanno fatica a riconoscerne altri. Quindi in qualche modo separiamo lo strumento con la grandezza fisica vettoriale. L'altra caratteristica è che le forze si trovano insieme all'equilibrio del punto materiale. Quando si definisce, si dà la definizione statica di forza, spesso questo richiede l'introduzione anche intuitiva del concetto di equilibrio. Si parla di molle che poi a un certo punto si fermano e allora a quel punto è un po' come quello che spesso accade, è un po' come lanciare il sasso e ritirare la mano. E allora a quel punto questi due, la definizione di forza e le condizioni dell'equilibrio del punto materiale vanno insieme, devono stare in un unico capitolo. Questo rende anche, facilita anche la programmazione che alcuni docenti fanno che è quella di non trattare nel primo biennio la statica del corpo rigido e di farla direttamente in classe terza come caso particolare della dinamica. Avendo un capitolo separato per quello, questo è, per chi fa questo tipo di programmazione, la cosa diventa agevole. La classe terza è quella che ha un indice un po', qui veramente abbiamo fatto una proposta insieme all'autore un po' particolare. Il raccordo di meccaniche è fatto con due capitoli, è breve, però è completo, non manca niente, ma uno dei problemi più grandi che gli insegnanti ci hanno raccontato quando abbiamo fatto interviste o focus group è che in terza si inizia troppo tardi perché questa parte di ripasso si porta via troppo tempo. Allora abbiamo immaginato un raccordo di meccanica completo ma compatto che evita alcune ripetizioni. Per la meccanica c'è una scansione un po' diversa dal solito anche qui. Qui si passa senza salti logici dal punto materiale ai corpi estesi, ai corpi rigidi e lo si fa passando attraverso i sistemi di corpi. Quindi il capitolo 2 che vedete qui, nel capitolo 2 si trattano le grandezze fisiche fondamentali per fare questo passaggio, poi si trattano i sistemi di corpi e gli urti e poi i corpi estesi e la dinamica del corpo rigido. Spesso nei corsi di fisica dei licei si passa con un salto logico dal punto materiale ai corpi estesi e questo passaggio non è ben trattato. L'altra caratteristica che vi ho evidenziato è il capitolo 10. Qui abbiamo separato la trattazione macroscopica e microscopica della termodinamica. Questo diventa più semplice perché non si passa da un approccio all'altro e soprattutto è coerente con l'evoluzione storica della disciplina. La trattazione microscopica meccanica è il punto di arrivo. La classe quarta è quella con l'indice più standard. La caratteristica che voglio sottolinearvi è che il moto armonico non viene ripassato all'inizio della classe terza perché altrimenti viene fatto in cinematica, in dinamica, all'inizio della classe terza e poi necessariamente all'inizio della classe quarta come prerequisito fondamentale di oscillazioni e onde. Allora non lo ripassiamo all'inizio di classe terza ma lo ripassiamo direttamente là dove serve, all'inizio della quarta. La classe quinta, sulla classe quinta vi segnalo la trattazione e la distinzione tra flusso tagliato e concatenato, i circuiti RC, anche questi che li trattiamo in classe quinta e non in quarta perché una volta che sono state trattate le derivate si hanno gli strumenti matematici corretti per poterli affrontare e per fare quantomeno la verifica della soluzione dell'equazione differenziale. In quarta questa cosa non si può fare e poi viene rimandato comunque alla classe quinta, è uno degli esercizi classici che ci dicono i docenti poi vengono svolti in classe. La relatività e la quantistica sono trattati con un approccio storico, con un filo conduttore molto preciso e infine come vi dicevo la parte di fisica moderna e contemporanea che viene comunque trattata, se viene trattata con un taglio più qualitativo, divulgativo proprio perché la matematica che c'è al di sotto di questi argomenti non è una matematica liceale e allora ne abbiamo fatto un oggetto a parte, un fascicolo che ha proprio anche l'aspetto di una rivista e questo è una novità assoluta nell'editoria scolastica. Adesso lo sfogliamo, sfoglieremo anche questo insieme. L'altro punto di forza che vi, di cui che ho elencato all'inizio è la teoria. La teoria è una teoria caratterizzata da una continua mediazione tra correttezza formale e semplicità. La teoria è corretta ed è esposta, la semplicità risiede nella modalità di esposizione, non ci sono grandi giri di parole, il linguaggio è asciutto, va subito al dunque, il testo è sintetico ed è molto accompagnata, continuamente accompagnata da quelli che noi chiamiamo le schematizzazioni, i grafici parlanti, che sono queste rubriche qui, qui vedete dei dinamometri per esempio, che si chiamano, queste rubriche che si chiamano esplore il grafico. La teoria è continuamente accompagnata da questi schemi parlanti, in modo che non è mai un muro di testo. Come in tutti i libri di fisica abbiamo degli esercizi svolti e commentati passo per passo che servono a consolidare il metodo e a volte in questi esercizi svolti confrontano metodi di risoluzione equivalenti e diversi per uno stesso problema. Tutti gli esempi, qui vedete per esempio qui c'è una mongolfiera, sono sempre racchiusi in un box evidenziati. In qualche modo queste pagine vogliono sembrare già studiate da uno studente, ci sono le evidenziazioni, ci sono gli schemi con le spiegazioni intorno, proprio per favorire gli studenti nello studio. Vi segnalo questa rubrica sul colonnino che si chiama prova subito e ogni volta che viene data una nuova formula immediatamente si chiede allo studente di provare a metterci le mani per vedere se ha capito, quindi è un'applicazione immediata. L'altra cosa che vi segnalo, ma di cui poi vi parlerà in maniera più estesa Vincenzo Belluomo è la presenza di geogebra. Ci sono ben 80 attività geogebra di fisica, quindi una produzione molto, devo dire, notevole per questa materia che è un lavoro che abbiamo fatto un po' su tutta la fisica di Mondadori e quindi l'idea è proprio associare alle formule delle animazioni di fisica. Questo è uno strumento molto potente sia in termini di semplificazione, sia in termini di inclusività e sia per la integrazione tra matematica e fisica. Per esempio tra queste attività geogebra è possibile vedere le dipendenze tra le grandezze fisiche caratteristiche di un fenomeno. È possibile vedere proprio a colpo d'occhio un fenomeno fisico e la sua rappresentazione matematica. Oppure, penso al geogebra che abbiamo, l'attività sulle onde elettromagnetiche, è possibile visualizzare dei fenomeni che sono un po' difficili da immaginare. L'eserciziario. L'eserciziario è numerosissimo, ci sono davvero, è attualmente l'eserciziario più numeroso sul mercato, l'eserciziario su carta più grosso che c'è sul mercato. Ed è diviso in tre sezioni a difficoltà crescente, quindi non è solo una raccolta di esercizi, ma è un preciso percorso didattico. Una delle sue caratteristiche particolari è questa prima sezione, quella che vedete in verde, che si chiama Fissa i concetti chiave, che è molto particolare perché raccoglie tutti gli esercizi non numerici, quelli che sono di ragionamento, che ti aiutano a fissare un po' la teoria prima di passare ai calcoli. In tutti i libri di fisica ci sono i vero-falso, le risposte in multiple esercizi che non richiedono dei calcoli, ma qui l'idea è proprio raccoglierli in una prima sezione che è una sorta di ponte tra la teoria che va a questo punto consolidata e poi si passa ai calcoli. Nell'eserciziario vi segnalo anche questa rubrica che si chiama dal testo al risultato che è una guida proprio per interpretare i problemi, quelli che hanno un testo un po' più lungo e nel primo biennio abbiamo questa rubrica che si chiama Ricordati, che è un alert sugli errori più comuni e in qualche modo per il docente costituisce una mappatura degli obiettivi minimi. L'altro punto di forza di quest'opera sono, come vi anticipavo, i materiali per l'esame di stato. Anche qui c'è un percorso estremamente graduale che va dalla classe prima alla classe quinta. Nel primo biennio abbiamo solo tre quesiti, sono tre problemi un po' più sfidanti dove magari viene richiesto di argomentare un po' sul procedimento di risoluzione, quindi sono tre problemi un po' più simili, è un primo passo verso quello che poi è lo scritto dell'esame, che quest'anno torna in una modalità ancora, diciamo, di passaggio, però torna. Nel secondo biennio, quindi in classe terza e in classe quarta, c'è una sorta di capitolo speciale, un'intera sezione alla fine del libro con problemi tutti risolti e commentati passo per passo e simulazioni. Tutti gli argomenti sono taggati, quindi il docente così per voi dovrebbe essere semplice orientarvi per assegnarli o per sceglierli in classe, quindi tutti gli argomenti di matematica o di fisica che vengono toccati da quel problema sono indicati sul colonnino per il docente. In quinta, il volume di quinta si differenzia dai precedenti ovviamente perché qui il lavoro diventa, il lavoro di integrazione tra matematica e fisica e il lavoro di preparazione all'esame necessariamente assume un altro passo. Qui c'è un lavoro di integrazione in ogni capitolo. Nella teoria tutti i sottoparagrafi, paragrafi in cui viene fatto un uso esplicito degli strumenti matematici di quinta sono segnalati, come vedete qui in questa schermata, con le derivate, con gli integrali, con i limiti, con le equazioni differenziali, quindi vengono indicati e a questi sottoparagrafi corrisponde, quindi con una corrispondenza uno a uno, una pagina speciale negli esercizi. Questo in ogni capitolo. Perché abbiamo fatto questo lavoro? Perché abbiamo parlato con molti di voi e tutti ci hanno detto che in tutti i libri ovviamente sono reperibili simulazioni, problemi tipo quelli dell'esame. Il grosso problema è che quello lì è il punto di arrivo. Quindi come si fa ad arrivare a quel punto? Quali sono i materiali che posso avere per allenarmi prima? E questa è un po' la risposta che noi abbiamo cercato di dare a questa domanda. Quindi qui l'idea è che quel lavoro di integrazione tra matematica e fisica va fatto prima sul singolo contenuto, sulla singola formula. È un po' come mettere in mattone dopo mattone, capitolo dopo capitolo. Ci si allena sulla singola formula con le derivate, sulla singola teorema che contiene gli integrali e poi solo dopo aver fatto questo lavoro si approda anche qui a una sezione finale che però è grande il doppio rispetto a quella dei volumi precedenti. In questa sezione finale del volume di quinta abbiamo oltre a problemi, quesiti e simulazioni una parte, una sorta di introduzione con cenni di fisica matematica dove ripassiamo gli strumenti matematici e soprattutto li vediamo in azione su alcuni sistemi fisici significativi, le equazioni del moto, il moto in presenza di attrito viscoso, quindi rivediamo alla luce degli strumenti matematici di classe quinta alcuni sistemi fisici anche che si sono incontrati negli anni precedenti. In questa parte vi segnalo un'assoluta novità che noi li abbiamo chiamati problemi gemelli, quindi è lo stesso problema, due problemi identici, uno di matematica e uno di fisica, pure con gli stessi numeri e questo serve agli studenti per allenarsi nel riconoscimento degli strumenti matematici da utilizzare. Loro fanno fatica a riconoscere uno strumento matematico fare un calcolo quando questo è calato in un contesto fisico, vedere così affiancati uno di fronte, uno di fianco all'altra lo strumento matematico, chiamiamolo isolato, nudo, da solo e invece in un contesto di un sistema fisico li aiuta molto ad allenarsi a fare questo riconoscimento. Questo è una cosa che non esiste negli altri corsi ed è un'assoluta novità. Anche qui, come vi dicevo, ci sono problemi, quesiti e simulazioni e anche una parte con alcuni spunti per il colloquio. Sempre in ambito esami di Stato, come vi dicevo, può essere utilizzato per tesine, per costruire il proprio percorso dell'orale o per la propria lettura e approfondimento culturale. Abbiamo messo la fisica moderna e contemporanea in un fascicolo dedicato. Questa configurazione è inedita, il taglio è divulgativo e ha anche una grafica che qui vedete alcune pagine. Speriamo possa essere un invito anche alla lettura di questi ragazzi e che magari può appassionarli. E in questo fascicolo attualissimo c'è un capitolo di fisica ambientale. Infine, l'ultimo punto di forza di cui voglio parlarvi sono le proposte per una didattica innovativa. Cioè in questo corso di fisica l'idea forte alla base di questo progetto è l'idea di voler inserire la fisica in un contesto culturale. Quindi in questo corso di fisica trovate anche delle schede sulle infografiche che oggi servono anche per comprendere cosa ci raccontano al telegiornale. Tra le proposte per una didattica innovativa abbiamo questi compiti di realtà che si chiamano fisica in azione. Qui per esempio l'autore si è cimentato in un'analisi cinematica dei 100 metri di Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo. Quindi qui maneggiamo dati veri, non verosimili. Abbiamo le letture, queste schede sulle infografiche come vi anticipavo, queste in tutti e cinque gli anni. L'educazione civica è un percorso integrato di fisica ambientale un po' in tutto, dalla classe prima alla classe quinta. Nel primo BN abbiamo proprio dei compiti di realtà con delle semplici attività da fare con dei fogli di calcolo. C'è un'attenzione anche verso l'orientamento. Quindi abbiamo intervistato, e queste si trovano nel triennio, delle professioniste e professionisti della fisica che ci raccontano un po' qual è la loro attività per mostrare un po' qual è lo spettro delle possibilità anche lavorative per chi sceglie fisica. Il laboratorio. Abbiamo un laboratorio a squadre, quindi qui abbiamo gamification e apprendimento cooperativo dalla classe prima alla classe quarta e in classe quinta il laboratorio come gioco a squadre lascia invece il posto a queste schede che si chiamano turning points, che sono i punti di svolta, gli esperimenti che hanno rappresentato una svolta nella storia della fisica. Io prima di lasciare la parola a Vincenzo e poi dopo magari ci rivediamo se avete delle domande. Vi ricordo, con questo slide voglio invitarvi ai prossimi appuntamenti che riguardano quest'opera. L'autore farà due masterclass agli studenti, quindi sono dei webinar ma fatti di mattina, quindi potete iscrivervi e collegarvi anche con la LIM proprio per far partecipare alla vostra classe. Ne abbiamo due, uno il 15 marzo e uno il 5 aprile proprio sulla fisica ambientale. Il 29 marzo abbiamo la fisica va in scena, quindi un monologo della fisica, scrittrice e autrice teatrale Gabriella Grayson e il 19 aprile ci sarà un incontro con Roberta Sinatra che è uno dei massimi esperti in Europa sulla fisica dei sistemi complessi che ci racconterà di che cosa si tratta e fino al premio Nobel a Giorgio Parisi, quindi questo incontro sarà il 19 aprile. Io con questo ho chiuso e adesso lascio la parola a Vincenzo che vi racconta i contenuti digitali di quest'opera. Eccoci, allora buon pomeriggio a tutti, io vi rinnovo anche e vi invito a fare domande in chat se ne avete, non vi occuperò molto tempo così poi dopo abbiamo un po' di spazio proprio per lasciare spazio alle domande. Allora, vi farò una breve overview di quelli che sono i contenuti digitali di quest'opera, potete già dirci alla slide, però ci teniamo a fare una piccola premessa che racconta un po' in generale qual è stato l'approccio nello sviluppo dell'offerta digitale di Hubble. Se dovessi trovare un comune denominatore alla scelta progettuale, a quello che abbiamo realizzato su questo libro sicuramente parlerei di integrazione perché i contenuti digitali di questo progetto si integrano perfettamente sia da un punto di vista didattico con quello che viene offerto nelle pagine del libro, quindi ci sono spunti per come poter utilizzare le risorse, le risorse appunto sono pensate e strutturate per coprire un ampio ventaio anche di metodologie didattiche e poi c'è un'integrazione diretta anche con la carta, quindi un'integrazione fisica perché avete avuto modo di guardare le pagine e avete visto che c'è una massiccia presenza di QR code e questo significa che tutte le risorse che vedete qui elencate in questa lista sono fondamentalmente consultabili e visibili direttamente in pagina attraverso il QR, quindi anche oltre con la piattaforma del libro digitale anche direttamente inquadrando il QR, quindi utilizzando il libro di carta. L'altro elemento che credo sia distintivo di questa offerta digitale è l'innovazione. Abbiamo tanti nuovi materiali, qualcosa è stato già anticipato da Rita, ci sono tanti nuovi video ma c'è anche una presenza strutturale e ricorrente delle animazioni con GeoGebra, quindi noi abbiamo pensato di costruire un vero e proprio percorso raccolto in un canale, abbiamo aperto una pagina GeoGebra dedicata alla fisica dove sono raccolte 80 attività che vanno a coprire un po' tutto il programma del quinquennio della fisica, sono delle animazioni fatte con GeoGebra ma anche queste le vedremo, sono presenti le mappe, le presentazioni modificabili quindi in formato PowerPoint, le sintesi audio e le letture anche in inglese, si offre anche la possibilità di usufruire di lezioni digitali, le lezioni digitali sono dei percorsi didattici già impostati, come dicevo appunto da questo punto di vista l'integrazione è piena, sono dei percorsi didattici digitali già impostati, costruiti sui nuclei fondanti della disciplina e anche qui ci sono delle indicazioni su come sfruttare le risorse, che tipo di metodologie attuare e poi per la fase valutativa c'è sempre un Google modulo, quindi ed erogabili direttamente quindi da parte del docente avete la possibilità di sfruttare queste verifiche già costruite in Google moduli. Nel testo sono presenti i richiami e i rimandi al nostro erogatore di verifiche, quindi Adaptest che permette quindi con oltre 2.000 esercizi dedicati solo per la fisica di creare delle verifiche o anche semplicemente esercitarsi in autonomia da parte degli studenti e infine offriamo come sempre tra i materiali dedicati solo al docente la verifica e le programmazioni, anche questo in formato modificabile, questa è una cosa che sempre ci viene richiesta, cioè di fornire le verifiche e la programmazione in modo che si possano modificare da parte di voi docenti e le tracce di risoluzione. Adesso io farei parlare un po' gli oggetti, nel senso che vorrei mostrarvi in particolar modo i video, avete visto che nella slide precedente ho sottolineato quattro tipologie di video, in realtà i video sono tanti, noi anche questi li abbiamo raccolti in un canale nella nostra playlist di fisica presente sullo YouTube di Hub Scuola e volevo mostrarvi semplicemente questi caratteri distintivi dei video, noi stiamo provando a introdurre delle innovazioni anche da un punto di vista comunicativo, quindi troverete i classici video di laboratorio, i classici video di teoria, ma anche dei video che si avvicinano sempre più a quei contenuti che i ragazzi possono trovare fuori da un libro di scuola, quindi con dei linguaggi nuovi e che i ragazzi sono abituati a, come dire, maneggiare ormai quotidianamente. Quindi lancierei il primo video e ve lo farei vedere. Ha un nome grigio, per nulla evocativo, eppure è una delle più maestose costruzioni della fisica moderna, puntellata da centinaia di prove sperimentali che ne hanno confermato la validità fino a decine di cifre dopo la virgola. Si chiama modello standard della fisica delle particelle, o anche solo modello standard, ed è una specie di tavolozza che contiene tutte, ma proprio tutte, le particelle elementari che conosciamo, nonché una descrizione accurata del loro comportamento e delle loro interazioni. Una sorta di libretto di istruzioni della natura, per intenderci. Metterlo a punto non è stato facile. La storia del modello standard comincia e finisce con un disaccordo, un contrasto. Il primo, quello che ha dato origine a tutto, riguarda due delle teorie più importanti della fisica moderna, la relatività rispetta di Einstein e la meccanica quantistica. Teorie entrambe corrette, ma incompatibili tra loro quando si trattava di spiegare alcune proprietà delle particelle elementari. Per rimettere ordine, nella prima metà del secolo scorso diversi scienziati elaborarono un nuovo impianto teorico, la cosiddetta elettrodinamica quantistica, definita il gioiello della fisica per la sua accuratezza nel prevedere con grande precisione fenomeni estremamente contesti. L'elettrodinamica quantistica, insieme ad altre scoperte, ha permesso finalmente di mettere appunto il libretto di istruzioni di cui parlavamo prima, il sacro graal della fisica delle particelle. Nella sua formulazione più completa e moderna, il modello standard ammette l'esistenza di tre tipi di particelle. Le particelle di campo, che mediano le forze fondamentali, l'interazione forte e l'interazione elettrodebole. Adesso io vi lascio così, così lasciamo un piccolo teaser per poterlo continuare, diciamo che lo potete vedere poi sul nostro canale YouTube, ma questo è soltanto un esempio dei video che potete trovare su quest'opera. Vi parlavo di video non solo divulgativi, ma video anche con l'autore che ci spiega i grafici. Questo è un altro esempio. In questo video andremo a presentare l'equilibrio di un corpo appoggiato su un piano inclinato privo d'attrito. Per fare questo, tracciamo un piano inclinato e appoggiamo sul piano un corpo. Introduciamo anche due assi cartesiani, l'asse X e l'asse Y, in direzione parallela e perpendicolare al piano rispettivamente. A questo punto, per studiare l'equilibrio del corpo, andiamo a tracciare il diagramma delle forze. Partiamo dalla forza peso, che è diretta in verticale verso il basso, e la scomponiamo lungo due direzioni, le direzioni X e Y, quindi la componente PX, e la componente PY della forza peso nelle direzioni parallela e perpendicolare al piano. Bene, a questo punto il piano esercita una reazione vincolare in direzione perpendicolare al piano stesso, e questa reazione vincolare deve essere uguale e contraria alla componente Y della forza peso, in modo tale che lungo l'asse Y non ci siano moti. A questo punto rimane la componente. Ecco, oltre a queste ci sono altre tipologie, adesso devo stoppare. Vi parlavo di biografie, anche qui un linguaggio innovativo, delle animazioni. Vi faccio notare che tutti i video sono sempre con un minutaggio molto molto basso, proprio perché sono pensati per una fruizione da parte dei ragazzi, magari anche con smartphone, magari anche fuori dall'orario scolastico, anzi soprattutto fuori dall'orario scolastico, e sappiamo qual è la soglia di attenzione che normalmente hanno i ragazzi nei confronti di un contenuto video. Maria Salomea Skodowska nasce a Varsavia nel 1867. Studentessa brillante, si diploma col massimo dei voti. In quanto donna, in Polonia non può proseguire gli studi. Si iscrive così all'Università Volante, istituto clandestino che ammette le ragazze. Nel 1891 segue la sorella maggiore a Parigi. Riesce ad accedere alla Sorbona, dove nel 1894 si laurea in fisica e matematica. Ecco, questo era un esempio delle biografie degli scienziati e in ultimo vi faccio vedere invece un esempio di un videolaboratorio. Per questo esperimento abbiamo bisogno di un termometro, di un fornello a gas, di contenitori in vetro e di tiosolfato di sodio. In questo esperimento ricaveremo la curva di riscaldamento e la curva di raffreddamento del tiosolfato di sodio e ne determineremo la temperatura di fusione e la temperatura di solidificazione. Generalmente, quando forniamo o sottraiamo calore a una sostanza, essa risponde modificando la propria temperatura. Ma questo fenomeno, che può sembrare banale, non si verifica in corrispondenza dei passaggi di stato. Quando, per esempio, una sostanza fonde, tutto il calore fornito viene impiegato per rompere i legami della struttura cristallina del solido. Adesso stoppo anche gli altri video e vado avanti con le slide. Ecco, allora, vi avevo parlato di mappe e di presentazioni. Andiamo a coprire praticamente tutte le unità con questi contenuti. Tutte le mappe e tutte le presentazioni vengono fornite in un formato PowerPoint, quindi sono modificabili. Sono pensate per un utilizzo attivo, non soltanto passivo, di visualizzazione. Quindi anche i criteri con cui sono costruiti questi oggetti sono pensati proprio per l'inclusività, a partire dalle font, dai colori, dall'utilizzo dei colori, delle immagini. E ovviamente sfruttano anche tutto l'apparato iconografico presente nel libro. Questo proprio per aiutare i ragazzi a orientarsi sia nella fase di riepilogo che di consolidamento delle informazioni che sono presenti appunto nelle varie unità. Un altro contenuto ricorrente realizzato anche questo in PowerPoint sono gli esercizi commentati. Gli esercizi commentati sono delle presentazioni pensate per un accompagnamento passo passo alla risoluzione degli esercizi. Nel caso specifico dei problemi, sarebbe meglio parlare dei problemi. Questo perché abbiamo pensato di realizzare questi oggetti, di renderli appunto con questa struttura. Come vedete, l'esperienza passo passo è proprio orientata a far acquisire un metodo nella risoluzione. Quindi l'esercizio è corredato da dei commenti puntuali che aiutano lo studente a far capire appunto come applicare il metodo di risoluzione o come magari anche ripassare una determinata regola e quando richiamarla. Ovviamente anche gli esercizi commentati sono realizzati in PowerPoint, quindi sono fruibili attraverso QR code e sono ben evidenziati nella parte appunto esercitativa. Vi parlo adesso dei GeoGebra. Voi conoscete probabilmente GeoGebra come un software che viene utilizzato per la matematica, quindi per la geometria, in particolar modo per la geometria dinamica. Quindi viene utilizzato molto spesso per la didattica della matematica. Ma sono certo che molti di voi hanno spesso utilizzato delle animazioni anche trovate in rete, esempio classiche animazioni FET, per la fisica. Quindi diciamo che l'utilizzo delle animazioni per la fisica non è una vera e propria sperimentazione. Quello che noi abbiamo cercato di proporre quest'anno con quest'opera in particolar modo è quello di sviluppare una serie di animazioni realizzate con GeoGebra e di raccogliere tutte in questo canale che troverete anche a quell'indirizzo. Sono tutte animazioni libere. Se avete già un account GeoGebra potete già visualizzarle, scaricarle, modificarle. Sono assolutamente compatibili con qualsiasi tipo di schermo, device con cui verranno aperte. Per chi già utilizza GeoGebra sa quali sono i vantaggi di utilizzare questo strumento. Con GeoGebra, diciamo, chi insegna e chi apprende la fisica può visualizzare, come diceva Rita, quelle dipendenze tra le grandezze fisiche, far variare i valori dei parametri di un sistema e anche cambiare la rappresentazione di un fenomeno diciamo tutto in un modo dinamico in tempo reale. Quindi in sintesi, se dovessimo sintetizzare qual è il vantaggio di avere delle animazioni fatte con GeoGebra che sono delle animazioni che supportano la didattica ma con un fortissimo impatto visuale e tutto questo in tempo reale. Quindi la dinamicità di un'attività di GeoGebra comprende proprio la comprensione profonda tra le dipendenze, tra le grandezze che caratterizzano un sistema fisico. Per questo volevo farvi vedere un esempio pratico. Io adesso devo un attimo condividere un altro schermo per far sì che voi possiate condividere. la mia scheda di Chrome eccola qui adesso ve la condivido questo è un esempio di un'attività GeoGebra la faccio partire allora questa attività GeoGebra vuole mostrare la conservazione dell'energia meccanica cioè la somma tra l'energia potenziale gravitazionale e l'energia cinetica. potete vedere a colpo d'occhio la relazione tra le grandezze e il fenomeno fisico come è mostrata dinamicamente cioè nella pratica la sciatrice che affronta il pendio ad altezze e velocità diverse e vediamo come la somma dell'energia potenziale gravitazionale e l'energia cinetica fanno l'energia meccanica. Quindi in una semplicissima animazione potete vedere come visualizzare appunto un concetto del tutto astratto e del tutto teorico. Adesso fermo l'animazione torno alla mia presentazione scusate per questo cambio improvviso eccoci ecco allora io ho concluso la mia parte e credo che ci siano delle domande visto che ci sono state un po' di domande in chat lascio quindi la parola credo a Isa beh ma rimaniamo tutti e tre insieme rimaniamo tutti e tre insieme sì grazie Rita grazie Vincenzo allora Vincenzo rimaniamo intanto devo dire sono stati apprezzati i contributi video che hai fatto vedere in particolare il video sul modello standard devo dire che è stupendo quindi e l'hanno anche notato i nostri docenti collegati una prima scusa colgo l'occasione per dire ecco che in quel video appariva Sandro Giannacone che è un fisico anche lui è un giornalista scientifico è un divulgatore scientifico professionista e colgo l'occasione per dire che tutte le persone che hanno lavorato a questi volumi sono fisici sono docenti soprattutto sono vostri colleghi quindi chiunque ha messo mani le mani su questi materiali erano persone competenti ecco anche chi ha scritto e girato quel video che avete visto infatti si vede si vede si percepisce Vincenzo subito c'è una domanda per te sulle tempistiche del rilascio dei materiali digitali quindi qualcuno chiede se all'inizio del nuovo anno scolastico che cosa sarà disponibile assolutamente sì all'inizio dell'anno scolastico ovviamente saranno disponibili tutti i contenuti dell'opera non solo posso già anticiparvi che in realtà buona parte dei contenuti e penso a quelli che ad alcuni di quelli che avete visto per esempio le attività GeoGebra sono in realtà già disponibili sul canale GeoGebra quindi nella pagina dedicata alla fisica delle attività GeoGebra già potete vedere quelle attività ovviamente noi man mano che pubblichiamo i contenuti siccome i nostri canali diciamo abbiamo sposato questa filosofia di pubblicazione su YouTube su canale GeoGebra quindi diciamo molto open troverete gli oggetti posso dirvi anche prima non solo da un punto di vista diciamo potete sempre rivolgervi a la nostra rete commerciale per ottenere i saggi e quindi di conseguenza avere la possibilità anche di vedere i materiali digitali montati su Lib quindi avete la possibilità di avere anche un capitolo effettivamente già completamente attivo e funzionante più capitoli anzi perché sono su più volumi ecco certo perché ogni volume ha il suo capitolo in digitale montato approfitto anche per rispondere a una professoressa che chiedeva se sono disponibili le copie cartacee certo che sì tutta l'opera è stata pubblicata quindi rivolgendosi all'agenzia di zona vi fate portare a scuola le vostre copie l'agenzia la trovate nella pagina del nostro sito su mondadore education punto it andate nella zona delle agenzie e trovate quella della vostra zona per contattarla ecco approfitterei invece abbiamo quest'ultimo quarto d'ora per chiedere a Rita magari di entrare di specificare alcune cose che ha raccontato durante la presentazione io me ne sono segnate alcune ad esempio hai parlato Rita di tutte le hai fatto vedere la carrellata di tutte le attività che noi proponiamo quindi di una didattica molto ricca molto innovativa hai fatto vedere dei compiti di realtà hai fatto vedere dei laboratori tra l'altro dei laboratori particolari dei laboratori a squadre delle schede di educazione civica e quindi la lecita domanda è interessante far sapere agli insegnanti dove trovano dei materiali per poter condurre queste attività quindi se ci dici dove sono e magari un po' che cosa sono ok sì tutti questi materiali ovviamente per tutte le attività che proponiamo ci sono dei materiali specifici per il docente questo corso di fisica faccio una panoramica veloce sui materiali per il docente accompagnato da tre guide una per il primo biennio una per il secondo biennio e una per la classe quinta e nelle coppie saggio ci sono delle pagine speciali noi le chiamiamo le pagine gialle alla fine di ogni volume con dei materiali specifici per l'educazione civica per i materiali di educazione civica vengono forniti appunto dei fogli di calcolo semplici per fare delle semplici attività e in questi compiti di realtà di educazione civica viene chiesto agli studenti di fare un output digitale diciamo che sia una volta una presentazione o immaginare un volantino magari su risparmio energetico qualcosa del genere e ovviamente al docente vengono fornite in guida nelle pagine docente le griglie di valutazione di questi materiali un'altra scheda particolare abbiamo visto è quella sulle infografiche abbiamo chiamato infografiche big data quindi ci sono delle attività per familiarizzare con le prime semplici infografiche e poi per produrle a queste schede sono associati degli esercizi e il docente trova in guida tutte le tracce di risoluzione anche di queste attività le tracce di risoluzione le forniamo di tutti gli esercizi di tutti i volumi sulla guida cartacea e sulle copie docente trovate le tracce di risoluzione dei problemi quelli con livello di difficoltà 3 e dei materiali d'esame e poi in formato digitale quindi trovate poi tutte le soluzioni anche degli esercizi di livello 1 e 2 e nella copia saggio c'è anche poi tutte le soluzioni quelle sul livello docente quindi tutte le soluzioni visibili per il docente e non per lo studente Rita e Vincenzo perché diciamo è sia cartacee o sia digitale i materiali per le verifiche cioè per comporre i compiti in classe da parte del docente come li eroghiamo perché li eroghiamo sia di carta sia digitali ci raccontate nelle guide ci sono per ogni capitolo tre verifiche quindi due verifiche gemelle diciamo fila A fila B e una verifica semplificata per obiettivi minimi queste verifiche correggimi se sbaglio Vincenzo vengono erogate ai docenti anche in formato editabile in Word perché poi ovviamente per voi è comodo poterle manipolare scegliere gli esercizi e fare anche una quarta verifica a vostro piacimento tra i materiali docente avrete di queste verifiche anche della programmazione una versione in Word modificabile che potete utilizzare quindi li trovate tra i materiali che vengono solitamente agganciati per il docente e anche per le verifiche per gli esercizi delle verifiche troverete in guida tutte le tracce di risoluzione di tutti gli esercizi che compaiono nelle verifiche bene senti Rita sia adesso parlando di verifiche semplificate sia a un certo punto della tua presentazione parlando di quelli che sono gli errori tipici quindi illustrando una rubrica che sta alla fine del capitolo tu hai citato degli obiettivi minimi e invece noi nella cioè comunque noi nella nostra guida abbiamo una mappatura che è simile a quella degli obiettivi minimi che è quella dei nuclei fondamentali della disciplina e anche qua forse è interessante raccontare che cosa abbiamo e dove abbiamo questa mappatura si diciamo tra i materiali docente sia cartacee che digitali trovate due tipi di programmazione quella per ogni capitolo quindi capitolo per capitolo conoscenze abilità competenze e prerequisiti ma anche delle programmazioni che noi abbiamo chiamato per nuclei fondamentali quindi per macro argomenti quindi lì abbiamo mappato quelli che sono i nuclei fondamentali cioè gli obiettivi minimi di ogni macro argomento tipo termodinamica o elettrostatica quindi per macro argomenti e quindi e non per singolo capitolo indichiamo prerequisiti di matematica e di fisica conoscenze abilità competenze e quindi in qualche modo è più un suggerimento per i percorsi brevi quindi per un percorso agile perché il grosso l'enorme problema che tutti i docenti ovviamente ci raccontano è la gestione del tempo quindi ovviamente diamo ai docenti su queste programmazioni per nuclei fondamentali dei suggerimenti per svolgere dei percorsi un po' più brevi un esempio è quello che vi raccontavo quando abbiamo visto l'indice ci sono docenti che nella loro programmazione non svolgono la statica del corpo rigido fanno soltanto la statica del punto materiale questo serve anche a non ripetere più volte la definizione di momento meccanico quindi la svolgono direttamente in classe terza come caso particolare della dinamica questo è un possibile percorso gli indici di quest'opera sono coerenti con queste programmazioni per nuclei fondamentali quindi può essere utile avere qualche suggerimento di percorso breve soprattutto penso dopo due anni come questi in cui non è affatto semplice immagino non è stato affatto semplice per voi svolgere l'intero programma in un certo modo quindi trovare anche materiali e suggerimenti per fare una programmazione per nuclei fondamentali credo sia utile e in più in queste programmazioni per nuclei fondamentali trovate i riferimenti dove ha senso farli con i quadri di riferimento dell'esame di stato infatti questo è molto importante l'avrei aggiunto io all'interno di queste programmazioni cioè tutta la programmazione è comunque coerente con i quadri di riferimento dell'esame di stato quindi con il punto di arrivo del nostro percorso e l'ultima cosa che visto che abbiamo ancora qualche minuto che mi piacerebbe che magari Rita se hai voglia ci dici due parole in più sull'approccio di Andrea Brognara nei confronti del percorso storico della disciplina perché so che a lui è molto caro questo tema e quindi spero che anche ai docenti collegati questa cosa faccia piacere sentirla beh io spero che possano conoscerlo direttamente gli eventi prossimi eventi che farà lui direttamente Andrea Brognara è devo dire lo dico senza timore di essere smentita da quando faccio questo mestiere credo uno dei fisici più preparati che ho incrociato nella nella mia vita preparatissimo e soprattutto è io gli dico sempre che è uno speleologo cioè questo autore quando mi manda un capitolo mi manda sempre tutti i riferimenti bibliografici è uno un attentissimo lettore è una consulta le fonti è molto attento all'evoluzione storica per non fare anticipazioni cioè raccontare la fisica e spiegare la fisica avendo attenzione per la reale evoluzione storica in qualche modo restituisce anche il senso della scoperta l'esempio che vi portavo sulla termodinamica fare prima tutta la trattazione macroscopica e poi solo alla fine parlare di teoria cinetica dei gas e tutta la parte l'interpretazione microscopica statistica della termodinamica non solo è vantaggiosa da un punto di vista didattico perché non si passa da un approccio all'altro non si tratta nei gas un po' a livello macroscopico poi un po' a livello microscopico poi si torna a un approccio macroscopico quindi è più ordinato ma è anche corretto e coerente da un punto di vista storico e restituisce su questa è una cosa su cui quest'autore a cui quest'autore ci tiene tantissimo il senso della scoperta cioè quando poi finalmente ti racconto l'interpretazione microscopica della termodinamica ti restituisco anche la verità storica che è quella scoperta quel senso di scoperta che poi magari si riesce si spera a trasmettere anche agli studenti quindi quindi questo è una caratteristica e poi quindi l'attenzione per la correttezza delle definizioni per il mantenere sempre un filo logico e questo filo logico spesso anche nel caso di tutta la fisica della classe quinta la relatività e la meccanica quantistica è sempre un filo storico ti racconto l'evoluzione storica di queste scoperte quindi su questo l'autore è stato molto molto attento ecco ecco vedo che anche altri docenti dicono che fanno così è importante perché gli studenti altrimenti ecco vi riporto una frase tipica di quest'autore che ho sentito tanto in questi anni abbiamo iniziato a lavorare nel 2016 è stato un lavoro di progettazione davvero lungo e davvero stimolante l'autore una frase che mi ha detto tantissime volte in questi anni è i ragazzi altrimenti la fisica diventa una collezione di formule e ai ragazzi poi non piace quindi io devo raccontarti la storia il filo logico perché altrimenti è solo una una collezione di formule da imparare a memoria ecco questo ci auguriamo di aver rispettato l'intenzione dell'autore in tutti i volumi perché era veramente una diciamo era proprio il il punto di riferimento il faro dall'inizio alla fine di questo lavoro quindi ripeto l'invito a andare sul nostro sito a vedere gli orari le giornate che vi ha prima indicato Rita di queste due masterclass che proprio Andrea terrà rivolte ai ragazzi quindi potrete voi con le vostre classi sperimentare proprio questo suo approccio questo suo modo di porre le cose e speriamo che appunto vi possiate iscrivere che sia un'ora della mattina in cui siete in servizio a scuola con le quinte e prima di lasciarvi nella chat vedete anche è stato inserito l'indirizzo del canale GeoGebra di fisica per cui lì potete trovare tutte le nostre GeoGebra già realizzate e dopodiché io ringrazio davvero ecco benissimo grazie che la regia ci rimanda quindi le due masterclass di fisica con Andrea Brognara al mattino il 15 marzo e il 5 aprile se non ricordo male sono verso le 11 comunque le trovate sicuramente nel sito e poi sempre per rimanere nell'ottica che la fisica è un racconto meraviglioso e non è una collezione di formule immagino che la conoscerete tutti ma comunque il 29 marzo sempre al mattino abbiamo questo spettacolo con Gabriella Grayson sempre dedicato a voi alle vostre classi da vedere tutti insieme e l'ultimo questo diciamo dedicato più a voi sarà in orario pomeridiano il 19 aprile con Roberta Sinastra sulla fisica dei sistemi complessi comunque anche quelli del pomeriggio poi rimangono registrati per cui se poi li volete riproporre alle vostre classi lo potete lo potete sempre fare ringrazio tutte ringrazio tutti ringrazio soprattutto Rita e Vincenzo che ci hanno fatto una presentazione bellissima e speriamo che presto voi abbiate tutti Hubble fra le mani e che vi piaccia molto grazie arrivederci grazie grazie a tutti